Cari amici bentornati all'appuntamento con Italmotor, cominciamo l'anno in bellezza, ciao Massimiliano Ciao Cesare, un benvenuto a tutti voi Allora un gennaio denso di avvenimenti Italmotor perché come sempre grandi affari Grandi affari, grande offerte, venite a scoprire le nostre autovetture nuove, chilometri zero, vetture aziendali, vetture d'occasioni con sconti pazzeschi con la possibilità di finanziare anche l'intera cifra, con la possibilità di finanziarla a tasso zero comprensivo anche di cinque anni di assicurazione, incendio, furto e atti vandalici, il tutto in una piccolissima rata mensile Infatti qui da Italmotor gli affari continuano anche in questo nuovo anno, andiamo a scoprirli insieme E cominciamo subito con un Alfa Romeo Mito, 1.6 Multijet, 120 cavalli, allestimento Distintive, con pack premium dal climatizzatore automatico Bizona ai fendinebbia, ai sensori parcheggio, sarà vostra a soli 10.900 euro un'autovettura immatricolata nel 2011, pochissimi i chilometri percorsi Lancia Musa, 1.3 Multijet, 95 cavalli, allestimento Ego dai cerchi, lega ai fendinebbia, al climatizzatore ABS, 4 airbag, radio CD MP3, un'autovettura immatricolata nel 2012, garanzia ufficiale Lancia, sarà vostra a soli 12.500 euro E passiamo ad un Fiat Cubo, 1.3 Multijet, 75 cavalli, allestimento Dynamic, 14.000 solamente i chilometri percorsi, immatricolato nel 2012, garanzia ufficiale Fiat, sarà vostra a soli 11.800 euro Fiat Ulisse, 2.000 Multijet, 120 cavalli, allestimento Dynamic, solamente 43.000 i chilometri percorsi Se avete capito bene, 43.000 chilometri, praticamente nuovo, sarà vostro a soli 10.900 euro E vi ricordo, su questa autovettura, come su tutte quelle che state vedendo, la possibilità di finanziare a tasso zero l'intera cifra, comprensivo di 5 anni di assicurazione, incendio, furte e attivandalici, il tutto in una piccolissima rata mensile Solamente 14.800 euro per questa Alfa Romeo Giulietta, 2.000 Multijet, 140 cavalli, immatricolata nello 2012, quindi garanzia ufficiale Alfa Romeo, climatizzatore, cerchi in lega, sensori parcheggio e tantissimi altri accessori, avete capito bene il prezzo, 14.800 euro E continua la straordinaria offerta su Fiat 500 L, 1.3 Multijet, 85 cavalli, allestimento Popstar Dai cerchi in lega al climatizzatore, ABS, 4 airbag, radio CD MP3 con porta USB e AUX E in più ancora tantissimi altri accessori, vetture immatricolate nel 2013, pochissimi chilometri percorsi, le porterete via a partire da soli 14.800 euro, avete capito bene, 1.3 Multijet, 85 cavalli, immatricolato nel 2013, garanzia ufficiale Fiat a soli 14.800 euro E ancora 500 L, parliamo di 1.4 16 valvole, 95 cavalli, pochissimi chilometri percorsi Dai cerchi in lega da 17, al climatizzatore anche in questo caso, ABS, 4 airbag, CD MP3, porta USB, ASR ed ESP Quindi controllo di stabilità e controllo di trazione, sarà vostra a soli 13.500 euro Alfa Romeo Giulietta, 2.000 Multijet 140 cavalli, con navigatore satellitare integrato nella plancia Allestimento distintivo dal climatizzatore automatico Bizzona, ai cerchi in lega, ai sensori parcheggio, autoradio con CD MP3, comandi al volante, cruise control, praticamente full optional Immatricolata nel 2012, garanzia ufficiale Alfa Romeo, la porterete via a soli 14.900 euro Fiat Punto, 1.300 Multijet 95 cavalli, allestimento easy, 5 porte, dai cerchi in lega al climatizzatore, ABS, 6 airbag, CD MP3 con comandi al volante Saravostra a soli 9.900 euro, garanzia ufficiale Fiat Peugeot Expert, 1.600 HD, diesel, immatricolato nel 2011, 30.000 solamente i chilometri percorsi Un veicolo commerciale praticamente nuovo, con climatizzatore a soli 10.900 euro, compreso IVA Solamente 89 euro al mese per questa Fiat Panda, 1.200 allestimento lounge, immatricolata a fine 2012, garanzia ufficiale Fiat con cerchi in lega E in più ancora climatizzatore ABS, 4 airbag, CD MP3, porta USB e Bluetooth, avete capito bene, a partire da soli 89 euro al mese Solamente 8.900 euro, 8.900 euro il prezzo di questa lancia Ypsilon, New Ypsilon, 1.200 allestimento gold, 5 porte immatricolate nel 2012, fine 2012, pochissimi chilometri percorsi Climatizzatore, ABS, 4 airbag, servo sterzo, radio CD MP3, telecomanda, apertura, chiusure e porte Avete capito bene il prezzo, 8.900 euro Fiat Panda 1.200 dynamic con GPL, immatricolata nel 2011, 40.000 chilometri percorsi, climatizzata a soli 7.500 euro 500L, 1.300 multigetto, 85 cavalli, allestimento Panoramic Edition, dal tetto in vetro ai cerchi in lega da 17 I sensori parcheggio, climatizzatore, ABS, 4 airbag, CD ed MP3, porta USB e AUX e in più ancora fendinebbia Praticamente full optional, qui a Little Motor, chilometri zero, la troverete con una rata piccolissima E con un finanziamento anche a tasso zero comprensivo di 5 anni di assicurazione, incendio, furto e atti vandalici A soli 17.500 euro 500.200, 69 cavalli, allestimento Lounge, solamente 12.000 i chilometri percorsi, immatricolata nel 2012, garanzia ufficiale Fiat 8.900 euro Il tempo purtroppo è finito Massimiliano, siamo alla conclusione, però ricordiamo gli indirizzi Via Stradella 82, via Cardinal Massaia 5, vi aspettiamo da lunedì al sabato Grazie, buon lavoro lì alla regia Grazie